Sono Enrico Rizzi, Presidente Nazionale del Nucleo Operativo Italiano Tutte le Animali. Oggi siamo qui assieme ad altre associazioni animaliste in buona sostanza per chiedere le dimissioni immediate del Presidente della Provincia di Trento, Lugorossi. In merito all'ennesimo atto purtroppo che è successo e che ha portato purtroppo alla morte di Orsa, mamma Orsa, KG2. Riteniamo che questa provincia non sia più assolutamente nelle condizioni di gestire questo progetto che è stato un totale fallimento e che portando ovviamente anche alla morte degli animali pensiamo che debba essere sospeso il prima possibile.